Oltre 1.500 emendamenti per bloccare l'approvazione delle aliquote sulla tassa per la casa la scorsa settimana. Ieri invece oltre 200 emendamenti che hanno tenuto sui banchi del Consiglio Comunale maggioranza e opposizione fino alle 2.30 di notte. Qualcuno dice una manovra strumentale che lascia intendere solo il desiderio di mettere i bastoni fra le ruote alla Giunta. Loro replicano così. I nostri emendamenti vanno sul contenuto, un contenuto che mira a mitigare una tassazione locale che loro hanno previsto al massimo. Noi riteniamo in maniera responsabile che c'è una necessità di aumentare la pressione fiscale locale, dato il taglio sempre più cospicuo che Roma impone alle amministrazioni locali, però nel contempo diciamo che la tassazione deve essere mitigata perché i cittadini di Pescara non hanno la possibilità e né meritano una tassazione elevatissima, probabilmente la più elevata a livello nazionale. Centrodestra compatto nel chiedere l'abbassamento delle aliquote per i pescaresi. Una battaglia che riprenderà il via alle 16 di oggi pomeriggio con un rischio palpabile. La scadenza per l'approvazione del regolamento della IUC e le varie aliquote dovrà essere concluso entro il 9 settembre. Pena il commissariamento della città. Noi probabilmente oggi torneremo alla carica per far capire che c'è la possibilità di eliminare al massimo tutte le spese voluttuarie, tutte le spese che non sono primarie. Il centro-sinistra forse sta pensando a tenere nel cassetto qualche soldo per le feste di Natale, per i mercatini o per altre manifestazioni che sono importanti ma in questo momento storico non si possono fare.